ma ciao allora vlog flash perché sto facendo le ultime scatole del cambio stagioni le faccio poco alla volta perché il tempo è stato un po pazzo vabbè questo contatto allora qui ho già due pigiami e la mia felpa dell'alidas il pezzo di sopra devo ancora trovare il pezzo di sotto ma non importa tanto ho ancora altro scatolone appunto uno scatolone che ho tirato fuori che c'erano pijami vestiti maglioni ma guardate un po cosa ho tirato fuori dal cilindro così io penso che prima di parlare dovete azionare il cervello questo è il mio marito della playstation dovevo trovare ancora il sotto questo è il mio pigiama stile vittoria secret qua ci sono i pantaloni spiderman e qua cosa troviamo vabbè questi guanti per capodanno un pantalone cargo e guardate cosa spunta qua ma che cos'è cos'è questa robina qua forse il top completo paillette che dicevate che avevo portato dentro da primark ma guarda un po ma guarda un po è mai solo il sopra e ci avete ragione solo il sopra qua il cardigan questo è un body e questo che cos'è ragazzi questo è il pantalone eccolo qua e vi faccio vedere che è di primark vedete primark ecco vi ho messo anche il flash così vedete meglio i pantaloni quindi pantaloni e il suo top sopra quindi tanto direte sempre cavolate ne direte tante sapete perché perché siete annoiati perché siete frustrati perché non sapete cosa fare se non sparlare ti hai fatto pure la rima ave ragazzi e vado avanti perché non c'è tempo da perdere con queste sciocchezze però siccome tanto mi è stato chiesto questo completo ti eccolo qua e adesso piglia e metti in saccoccia